Caro Fido che non si parla di banche, sono con Lucianino Embrani che di solito viene interpellato come consulente finanziario ma in questo caso come proprietario di Caniche, lui come me ha due cani e ci duele vedere che l'abbandono aumenta anche perché aumentano i bisogni della gente la gente abbandona il cane, come si fa? Sì, devo dire la verità, questa volta non mi viene tanta voglia di scherzare Eh no, questa volta no, cioè che è una cosa veramente faccio un appello veramente a tutte le persone perché poi in fondo un cane nell'arco di una giornata oltre che mangiare e darti quell'affetto impressionante che può dare No, pensavo che conseguentemente cacare No, lascia perdere queste cose Perché c'è una differenza, il cane è cani, dopo mi ritorna sempre va bene E poi ci sono esseri umani che... Insomma qui in piazza San Jacopo a due passi dal suo negozio Ci sarà una bella manifestazione e penso che sia giusto parteciparvi e qualunque cosa possono chiedere Io non lo so come è fatta questa manifestazione Ci sono dei contributi che bisognerà dare qualcosa perché so che ci sono ad Arezzo, ecco perfetto, ad Arezzo c'è l'EMPA che sono delle persone... Gestisce il canile E tra l'altro sono delle bravissime persone e so che tengono gli animali veramente bene Cioè l'appello, che appello vuoi che ti faccia? Dì una frase sul cane, vediamo che la dici è più bella tramite... Cioè la frase di un cane, già dire cani, questi animali sono... che cosa ti devo dire? Una frase, te vuoi una frase bella? Ecco io penso che questi due tipi di animali, il cane lo dico E sono più degli esseri umani Un cane vale veramente più di un essere umano in tutti i sensi E per poter dire questo bisogna avere i cani Io ho due cani e vi devo dire che... Dai non ci sono parole per descrivere l'affetto, l'amore che ha un cane verso il proprio... Oh vedi hai detto la parola chiave perché l'affetto che ha un cane verso il proprio padrone Tieni conto Luciano, e questa è la mia frase Che il cane di solito muore prima dell'uomo perché le due vite sono disgiunte E quindi sicuramente per te il tuo cane ti accompagna in una fetta di vita Ma per lui che campa meno di te sicuramente sarai il suo amore per tutta la vita Questa è molto bella, sì bravo La volevo dire ma me l'hai tolta a te Grazie Ma è possibile che tu mi debba togliere tutto? Fa una cosa, togliere anche i giubbotti Giubbotti Mi è prestato? Perché mi fa un caldo che... Perché i giubbotti di questo livello ti devo dire la verità Non solo è caldissimo Ma a 80 euro non li trovi da nessuna parte di Italia Ah, io pensavo me lo regalassi No Va bene ragazzi, allora a questo punto Sì, è già fatto, è già fatto Che può puntare Anzi, punto più niente, bene Perfetto, allora, bene Ora a questo punto il giubbotto me lo ripiglio perché è il mio Che figura di merda Che figura di merda Ma siamo in diretta per capire il giubbotto Grazie a tutti Grazie a tutti